Mazzanti Evantra 1000 cavalli, nome nomen ci viene da dire, questa è la prima vettura appunto dotata di 1000 cavalli prodotte in Italia questa potenza è raggiunta unicamente tramite la comparte termica, si tratta di un motore vuoto da 7.2 litri capace appunto di erogare in modalità aspirato 750 cavalli, grazie a un doppio turbo viene raggiunta la cifra record italiano di appunto 1000 cavalli la velocità massima è superiore ai 400 chilometri orari, mentre lo 0 a 100 è bruciato davvero in appena 2.7 secondi si tratta di una vettura quasi prototipale, è stata già acquistata da un cliente svizzero e verrà utilizzata appunto per cercare di studiare, carpire e meglio realizzare i prossimi modelli la Mazzanti ci ha comunicato che produce 5 modelli all'anno, ne sono già state vendute sulla carta 3, quindi affrettatevi che ve ne mancano 2 per il 2016 guardando i gruppi ottici anteriori possiamo vedere che sono bixeno, mentre per quanto riguarda il comparto aerodinamico frontale vediamo appunto che tutto è stato studiato in funzione della massimizzazione del carico aerodinamico vedete come sempre il carbonio a vista segno dell'estrema leggerezza e raffinatezza stilistica dell'auto volto a coinvogliare tutta l'aria possibile nel fondo della vettura oltre chiaramente alle classiche griglie di aereazione volte appunto a coinvogliare i flussi nella parte superiore della vettura sempre per cercare di tenere l'anteriore il più possibile inchiodato al terreno generando il più downforce possibile passando lateralmente vediamo questi bei cerchi di generose dimensioni all'interno dei quali sono montati i pneumatici Pirelli P0 veramente veramente belli e che sono appunto studiati per massimizzare la resa dell'auto sia in strada che anche su pista procedendo nella parte laterale possiamo vedere degli specchietti sagomati disegnati veramente dal vento la cui forma ci ricorda quasi quella delle Formula 1 in quanto c'è proprio questa classica e canonica apertura che tende a generare anche questa carica aerodinamico ma allo stesso tempo non vuole disturbare i flussi aerodinamici dell'aria prodotta ad elevate velocità procedendo lateralmente possiamo vedere e apprezzare un tocco di italianità con il badge con il tricolore montato in prossimità di questa presa d'aria abbiamo ancora le minigonne sempre in fibra di carbonio un gran bel look stilistico oltre che certamente funzionale vediamo poi lateralmente la presa d'aria volta al raffreddamento dell'intercooler del doppio turbo per appunto raffreddare il generoso motore da 1000 cavalli conosciamo nel dettaglio questo propulsore realizzato ad hoc per Mazzanti come dice il nome come abbiamo già ripetuto più volte è in grado di sprigionare ben a 1000 cavalli ed è possibile vederlo appunto grazie a questi bei vetri posteriore il motore è posizionato in posizione centrale posteriore e veramente da l'idea di compattezza ma allo stesso tempo leggerezza ci dicevano i tecnici che può sprigionare ben oltre i 1000 cavalli ma essendo pensato appunto per durare e soprattutto per l'uso stradale si è preferito stare un attimino a corto di cavalli per quanto sia possibile con una vettura di queste potenze posteriormente poi abbiamo lo spettacolo vero e proprio della Mazzanti Evantra 1000 cavalli con questi bei gruppi ottici molto cattivi ai quali fa appunto da contraltare il quadruplo sistema di terminali di scarico veramente cattivo, veramente che dà l'idea di velocità e di potenza sprigionata da questa vettura nella parte sottostante dell'auto abbiamo questo bellissimo estrattore sia estetico ma soprattutto funzionale il cui utilizzo è necessario per rendere la vettura il più possibile stabile e allo stesso tempo incollata al terreno per cercare di massimizzare l'effetto suolo anche questa è una tecnologia, è uno studio implementato e studiato appunto per la Formula 1 andiamo a vedere però com'è fatta all'interno questa Mazzanti Evantra 1000 cavalli Ci lascia sballorditi anche la portiera che è un sistema studiato e realizzato appunto da Mazzanti si apre contro vento in maniera diagonale guardando com'è sagomata e rastremata veramente si apprezza la bellezza dell'artigianalità tutta italiana gli interni sono studiati e realizzati apposta per il cliente secondo le sue specifiche si tratta in questo caso di interni nuovi ed innovativi studiati con il cliente svizzero che è in possesso di questo prototipo come è stato ribattezzato dalla stessa casa e che ha utilizzato un touchscreen di nuova concezione per Mazzanti al posto dei comandi fisici utilizzati per la Evantra possiamo definire standard il sedile viene assemblato su richieste specifiche del cliente dopo che appunto gli vengono prese le misure così come i pedal e la posizione del volante viene tutto veramente fatto a mano e soprattutto nulla è lasciato al caso come ci piace apprezzare su una supercar artigianale a tiratura limitatissima come la Mazzanti a Vantra potete benissimo immaginare la voglia che avremo di metterci alla guida di questa Mazzanti a Vantra a 1000 cavalli vedremo cosa si potrà fare nel futuro per accontentare voi utenti di Automoto.it e chiaramente anche un po' noi giornalisti che dovremmo provarla mi raccomando voi fateci sapere cosa ne pensate della Mazzanti a Vantra a 1000 cavalli sui social di riferimento, sulla pagina Facebook, chiaramente qui sotto al video di Youtube e su Twitter ovviamente al sito automoto.it noi ci vediamo alla prossima auto, ciao a tutti!